A giove c'è una cosa che si è proprio con la morosa cibale che si metteva un viti mi era buscicato come le arti e si è venuto a un cerro, io c'erano rase e danno a fare spesso. Allora il figlio diceva io ci tengo un prezzo, no, ma allora, fatto allora il bambino ti fa dormire, l'avvio era il partorito, e ha fatto eh non fa dormire, allora perché stai tornando a busta e roba male, il figlio del signore mi dice 50 centesimo fa, faceva c'era, no, no, ma io non lo voglio, non lo voglio, peggio e caga, tu ti ha mangiù un pan, ma ci va signora, non ti preoccupare, no, no signora, grazie, grazie, grazie.